Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo un argomento diverso dal solito che ormai non porto quasi più sul canale ma che in tantissimi, ma davvero tanti, mi avete richiesto via messaggio privato, mi avete bombardato perché vi siete accorti dai video precedenti e da Instagram che indosso un Apple Watch e ragazzi mi avete richiesto la recensione. Io assolutamente non sono in grado di recensire per bene un oggetto del genere ma sicuramente posso darvi la mia opinione da consumatore medio, da utente. Quindi se siete interessati continuate con la visione di questo video e nel frattempo io vi racconterò la mia esperienza e perché l'ho acquistato e nel frattempo coglierò l'occasione per unboxare questi pacchi che mi sono stati inviati da Banggood e che sono comunque collegati col mio Apple Watch. Intanto perché l'ho comprato? L'ho comprato perché ero stanco tutto il giorno di controllare continuamente le notifiche sul telefono visto che sono per la maggior parte della giornata sul posto di lavoro era diventato davvero snervante prendere di continuo il telefono controllare che non ci fossero messaggi, commenti, notifiche o telefonate perse visto che lo tengo silenzioso e spesso e volentieri ragazzi c'erano quindi ero ormai diventato schiavo del mio telefono e quindi mi sono detto perché non prendere un Apple Watch che così ce l'ho apporso quando qualcuno mi telefona qui mi appare la chiamata mi vibra l'orologio e quindi me ne accorgo e non perdo le telefonate e poi posso controllare in tempo reale le notifiche di Whatsapp, di Youtube le email importantissime per me in questo periodo e quindi mi sono deciso di acquistarlo io ho preso questo modello qui è un Apple Watch serie 3 da 8GB con cassa nera e cinturino nero c'era anche in cassa argento e cinturino grigio oppure rosa che non era il caso quindi ho preso questo qui nero io devo dire che sono molto soddisfatto del mio acquisto perché lo trovo davvero molto utile ma nonostante ciò ci sono assolutamente anche dei punti negativi primo punto negativo su tutti ragazzi è che io pensavo di salvaguardare la batteria del mio iPhone 7 perché io ritenevo che guardando le notifiche dall'orologio sicuramente avrei attivato molto meno lo schermo del mio iPhone e avrei consumato meno batteria invece non è così visto che il mio telefono è costretto a comunicare continuamente costantemente col mio orologio la batteria si consuma forse anche un pelo più velocemente rispetto a prima nonostante io lo usi davvero pochissimo durante la giornata però sì, effettivamente la batteria dura meno dura meno, arrivo a pelo a fine giornata però nonostante questo io trovo molto più comodo controllare le notifiche dal mio orologio è una cosa molto carina è che posso rispondere alle telefonate direttamente dal mio orologio mi basta rispondere e c'è il viva voce e posso parlare un po' come James Bond dal mio orologio naturalmente in pubblico è un problema ma quando magari si è in macchina è molto comodo altra cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso è il costo dei cinturini sostitutivi perché i cinturini costano da 59 euro in su anche questi qui in silicone o quelli in tessuto secondo me sono un pelo eccessivi e proprio per questo motivo Banggood mi è venuta in soccorso io ho scelto qualche cinturino e infatti adesso ve lo vado a mostrare così vi faccio vedere anche un po' come si sostituisce perché è davvero molto molto semplice apriamo questo primo pacchetto e vediamo cosa c'è all'interno io più o meno tastando i pacchi sono riuscito a dividerli in base all'argomento ecco qui il cinturino ok sono due, non c'erano tantissimi colori disponibili però mi sono devo dire accontentato e costavano pochissimo tenete conto che un cinturino su Banggood costa circa 3 dollari mentre 59 euro all'Apple Store e così a prima vista sono assolutamente uguali a quelli che vendono lì poi la qualità sarà sicuramente inferiore però ragazzi con 3 dollari capite bene che potete comprarne anche 10 e passarci tutta l'estate una cosa che non vi ho detto su questo Apple Watch è che è resistente all'acqua fino a 50 metri quindi potete farci la doccia, potete farci il bagno al mare, il piscina potete praticamente tenerlo sempre addosso sotto è presente un sensore che misura i nostri battiti cardiaci e una cosa che mi è piaciuta parecchio è che togliendolo dal polso in automatico si blocca perché non rileva più il nostro battito cardiaco e per sbloccarlo bisogna inserire un pin quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo ecco qui il cinturino, il primo che ho scelto è questo qui viola e il secondo invece l'ho preso arancione che sicuramente utilizzerò quest'estate perché è un colore più estivo e devo dire che secondo me col nero, col quadrante nero ci sta abbastanza bene e un'altra cosa che c'era all'interno del pacco e che avevo dimenticato è questa qui, si tratta di una sorta di cover per proteggere il nostro schermo eccola qui ragazzi, è una cover in plastica che in poche parole va agganciata sopra il nostro Apple Watch adesso ve la faccio vedere meglio è molto semplice, è in plastica trasparente e ragazzi credo proprio che faccia il suo dovere e devo dire che la trovo utile perché sbattere contro qualcosa è facilissimo con la sola differenza che se si spacca il vetro di un orologio con 40-50 euro si riesce a sostituire se si spacca il quadrante dell'Apple Watch bisogna comprare l'Apple Watch da capo, da zero perché non si può sostituire solamente il vetro, costa circa 350 euro il mio è costato 409 euro nuovo quindi vi rendete conto che il gioco non vale la candela non vale la pena andare a sostituire il quadrante visto che con la stessa cifra quasi lo prendete nuovo per questo motivo io ho stipulato l'Apple Care che era anche in sconto, l'ho pagato circa 25 euro e per due anni se mi si dovesse rompere il quadrante, lo schermo del mio Apple Watch con 60 euro mi darebbero un orologio nuovo quindi secondo me in questo caso il gioco vale la candela e quindi ho stipulato anche questa sorta di assicurazione perché è abbastanza fragile io ragazzi vi ripeto però mi ci trovo davvero molto molto bene e quasi non mi accorgo più di averlo a polso e mi viene automatico mai guardare tutto da qui la cosa bella è che basta inclinare il polso per attivare lo schermo e poi rigirarlo per farlo spegnere in automatico sono davvero bellissimi anche i quadranti che è possibile andare a scegliere ce ne sono tantissimi si va da quelli di Toy Story che sono fighissimi a Topolino che ci dice l'ora fino al pianeta Terra che si può andare a ruotare con il nostro dito o ad esempio la posizione del sole nel cielo ci sono davvero tantissimi personalizzabili ma adesso apriamo quest'altro pacco e vediamo cosa c'è dentro dovrebbe esserci un altro cinturino che avevo visto su Amazon ma che costava 10 volte di più e che ho deciso di ordinare su Banggood e si tratta del cinturino con le maglie in metallo maglie in metallo che io temo siano un po' tante visto che ho il polso abbastanza piccolo e infatti per questo motivo mi sono fatto inviare anche un altro oggetto che adesso vi farò vedere eccolo qui mi sembra davvero fatto molto molto bene si tratta di un cinturino in metallo nero in acciaio nero che sicuramente magari si può utilizzare per le uscite un po' più importanti per non andare in giro magari vestiti eleganti con un cinturino con diciamo con un cinturino fatto di gomma ecco mi stavo un po' incartando beh ragazzi io naturalmente ho dato per scontato che questo cinturino fosse troppo lungo sì infatti ragazzi riesco ad avvolgere completamente il mio polso col solo cinturino senza ancora il quadrante e per questo motivo mi sono fatto inviare da Banggood uno strumento che costa appena 3 dollari se non qualcosa meno e questo strumento ragazzi serve a ridurre a togliere le maglie delle catene che formano appunto i nostri cinturini stavo per spedire nello spazio il copriquallante ecco qui ragazzi il nostro aggegino che spero di riuscire ad utilizzare perché ogni volta mi scoccia tantissimo andare dall'orologiaio per farmi togliere due o tre maglie in questo caso dovrei riuscirci da solo perché ci viene fornito questo strumento che serve appunto a spingere le maglie fuori a spingere fuori i piolini dalla maglia quei tubicini metallici sottilissimi che tengono assieme la maglia ovviamente ragazzi vi farò sapere se ci riuscirò mi sembra abbastanza semplice ho visto qualche video su youtube e sono presenti anche tantissime punte di ricambio di diverse misure che ho fatto cadere a terra punte recuperate ragazzi e adesso andiamo a tirare fuori la seconda cosa che è contenuta in questo pacchetto e si tratta di un altro cinturino questo è un cinturino in pelle non ho idea se sia pelle vera o meno io mi auguro di no ed è in pelle di questo color ocra non ho idea di che colore sia color nocciola non lo so è comunque un cinturino in pelle o similpelle che mi piaceva mi sembrava abbastanza elegante e che adesso andrò a provare devo dire che mi piace parecchio forse l'unica cosa che non mi fa impazzire è questa chiusura qui la chiusura che è piuttosto larga anche se va un po' ad imitare quella del cinturino in gomma però devo dire che forse sarebbe stata meglio un peletto più piccola più ridotta ma i pacchi non sono finiti qui ragazzi ce n'è ancora uno perché questo orologio si carica in un modo molto molto diverso rispetto ai normali smartphone perché si ricarica con questo cavetto qui che viene fornito naturalmente nella confezione ed è un cavo magnetico basta semplicemente poggiarlo dietro ed ecco che si attacca sul retro del nostro orologio e lo va a ricaricare e come potrete vedere adesso è apparso un tastierino proprio perché l'ho tolto dal mio polso e non ha più rilevato il mio battito cardiaco e quindi adesso se volesse andare a sbloccare il mio orologio ecco che mi chiede di inserire il pin per verificare che sia io un'altra cosa molto molto carina è che io tramite il mio orologio quando mi trovo vicino al mio MacBook una volta aperto mi va a sbloccare il computer in automatico perché rileva che vicino a quel computer ci sono io e quindi non mi chiede la password ma sento un click di sblocco con vibrazione che mi avvisa che il mio computer è stato sbloccato cosa che trovo molto molto utile anche se io nel mio Mac ho anche il Touch ID e quindi posso sbloccarlo semplicemente poggiando il mio indice però è una funzione che comunque riconosco essere molto molto utile beh ragazzi come vi dicevo questo è il cavetto per ricaricare il telefono e devo dire che è un po' scocciante tenerlo sulla scrivania così buttato da una parte e per questo ho ordinato sempre da Ben Good che ringrazio tantissimo per tutti questi parti ho ordinato un supporto un supporto per avvolgere il mio cavo vediamo se è questo sì eccolo qui e arriva anche in una bella confezione molto molto carina si tratta semplicemente di una sorta di conchiglia passate nel termine in silicone dove possiamo andare ad alloggiare la nostra parte magnetica all'interno così incastrandola poi passare il filo all'interno e infine avvolgerlo tutto attorno io ragazzi lo trovo davvero molto molto utile perché in questo modo io posso andare ad attaccare il cavetto all'hub usb e poggiare semplicemente questo sulla scrivania e quando dovrò caricare il mio orologio mi basterà semplicemente poggiarlo sopra e averlo così a portata di mano è tutto pulito messo da una parte questo davvero secondo me è la cosa più utile in assoluto che assolutamente bisognava acquistare e infine per concludere vi faccio vedere anche questo perché ho presto intenzione di acquistare anche le airpods le cuffiette di apple perché le trovo utili appunto per parlare il telefono dato che non mi va proprio di andare in giro e parlare col viva voce per strada quindi con le airpods le collegherò direttamente al mio smartphone che si collega al mio apple watch e così quando mi arriverà una chiamata potrò tranquillamente parlare il telefono tramite quelle che poi ha già acquistato mio fratello e quindi so che sono davvero molto comode molto utili e la batteria dura tantissimo questo qui è semplicemente una sorta di guscio una cover in silicone dove andare ad infilare il piccolo pacchetto che qui è simulato da questa spugna il piccolo pacchetto che racchiude le airpods questo qui anche circa 2 dollari costa tutto davvero pochissimo sono arrivate in tempi davvero brevissimi vi dirò sotto quale metodo di spedizione utilizzare dove troverete tutti i link a questi prodotti ragazzi mi raccomando cliccate come dei forsennati e andate a vedere un po' tutte le altre cose che sono presenti su Banggood perché davvero si va dall'elettronica agli accessori fino all'action figure ma questo lo sapete bene perché ho portato tantissimi video a tema Banggood nell'ultimo anno comunque ragazzi tirando un po' le somme devo dire che è un acquisto che rifarei e che consiglio caldamente solo a chi ha la mia stessa necessità cioè quella di controllare con molta frequenza le notifiche le email soprattutto perché è possibile rispondere alle email tramite l'orologio così come agli sms così come ai messaggi su whatsapp anche se purtroppo nota negativa non esistono app compatibili di whatsapp e di facebook nonostante arrivino comunque le notifiche di facebook di whatsapp di instagram però nel caso di instagram è possibile anche andare a guardare i post quindi i feed ma non le storie dall'orologio quello che invece riguarda facebook e whatsapp non essendoci un'app compatibile in quel caso devo dire che è un po' scomodo dover comunque passare dal telefono per andare a visionare il post dove si è stati taggati ad esempio o la foto dove si è stati taggati perché dall'orologio non è possibile farlo e non si sa perché whatsapp non abbia voluto fare un'app compatibile con apple watch visto che ad esempio io utilizzo wechat che è un'app simile o utilizzo telegram e queste sono supportate da apple watch ragazzi a questo punto io vi ho detto in grandi linee come funziona apple watch come mi sono trovato trovate tutti i link come vi ho detto in infobox qualora voleste una maglietta come la mia questa qui a tema lupen occhi di gatto mi è piaciuta tantissimo ve l'ho segnalata anche su instagram l'ho presa su pampling e potete utilizzare da adesso in poi infinite volte il mio codice sconto 7 potter col quale darete una mano al canale a questo punto ragazzi è davvero tutto non ho altro da aggiungere se non ringraziare ancora una volta ben good per avermi inviato tutte queste cose io vi invito ancora a cliccare sotto in infobox su tutti i link per sostenere il canale qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao iscrivetevi al canale